Il suo stato d'animo comunque come potete immaginare non è sicuramente idilliaco però penso che per quello che si era pensato inizialmente un piccolo sorriso lo può fare perché a parte che adesso il ragazzo non ha Palma dove valuteranno un po' tutto si pensa che non ci deve essere bisogno di un intervento quindi è un punto a suo favore. Per dare un appoggio dobbiamo stare vicino, penso che sia molto importante perché ripeto io ci sono passato e sentirsi importanti in questo momento è molto importante perché lo aiuta sicuramente ad affrontare meglio la situazione della reabitazione di qualsiasi esso sia. Le cosiddette riserve di questo periodo io penso che sono le mie risorse quindi nessun dubbio, nessuna perplessità affronteremo la partita con il massimo impegno e chi andrà in campo sicuramente darà il filo da torcia. Quindi Guaia sotto l'autore all'avversario, anzi vive ancora dell'entusiasmo della vittoria di un campionato è una squadra, una società dove quest'estate penso che sia una di quelle che ha speso più di tutte perché non ci dimentichiamo che ha preso giocatori come Marzonatti, Sansovini, Rinaudo è una squadra da tenere assolutamente in considerazione e anzi Guaia a fare l'errore di pensare di andare a fare una partita semplice. Grazie